Buongiorno. Buongiorno, mercoledì 11 ottobre, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, andremo a leggere i titoli e le notizie principali che trovate sui quotidiani già in edicola. Ovviamente partiremo con i quotidiani di casa nostra per poi fare un salto anche sui quotidiani nazionali e su quelli sportivi anche per vedere quali sono le notizie principali in Italia e nel mondo. In questa prima parte ovviamente spazio alle prime pagine, poi nella seconda entreremo all'interno dei giornali di casa nostra e vedremo anche con l'ausilio di alcuni servizi di approfondire determinate tematiche. Partiamo con le prime pagine delle quattro edizioni del centro, partiamo dall'edizione di Pescara. Delitto Pavone, questo è il titolo, oggi il verdetto, sparò al marito dell'amante, il PG invoca la premeditazione, si pronuncia la Cassazione. Questa è l'apertura dedicata ovviamente a questo fatto di cronaca che adesso arriva anche ad una evidentemente conclusione giudiziaria. In alto le questioni che riguardano invece le questioni nazionali sulla legge elettorale, il governo pone la fiducia, Bagar in aula alla Camera. E poi per il caso Tercas, azione di responsabilità, l'ex DG Di Matteo condannato, 192 milioni al popolare di Bari. Scendiamo in pagina per vedere la fotonotizia che come al solito caratterizza la prima pagina del centro. Ecco come funziona la sanità in Abruzzo. Ci sono anche le pagelle della regione ai quattro manager delle quattro ASL. Andiamo in Abruzzo per vedere nelle cronache. Cioè a te Delfini d'Oro, Pescara premia Vanzina, Pedicini e De Ritis. C'è stata la consegna di questi premi. E poi nell'area Vestina, penna esclusa, danni del sisma, risarcimento solamente a Farindola. E per la Serie B ovviamente il Pescara, Gans, presto arriverà anche il mio momento. L'attaccante del Pescara, sempre in Abruzzo, mercato della casa, frena la caduta dei prezzi del mattone. Bruxelles, la regione punta su infrastrutture e fondi diretti. E poi vendemmia magra, mai così poca uva produzione in calo del 30%. Insomma è un calo abbastanza sostanzioso. Cambiamo adesso edizione per andare sull'edizione del centro, ma della provincia di Teramo. Test per l'arrivo di materiale radioattivo. Gran Sasso, se l'esito sarà positivo, il laboratorio accoglierà combustibile di un reattore russo. Anche di questo parleremo poi nella seconda parte, andando a fare il punto della situazione con un servizio dedicato. Nelle cronache, processo a Teramo, rapinatore vuole risarcire la vittima per avere uno sconto di pena. Sempre a Teramo parliamo delle questioni lavorative, quindi entriamo anche nella pagina sindacale. L'Atrea rompe le trattative con le istituzioni. A Giulianova fucili rubati, nascosti in casa. Rom ha processo. Andiamo sull'edizione dell'Aquila Avezzano Sulmona. Mobilitazione, il titolo, contro il cementificio. Cagnano, il comitato sollecita controlli sul combustibile utilizzato per la produzione. Nelle cronache, all'Aquila, progetto casa e tempera, luogo di aggregazione. Ad Avezzano invece, forgillo, pochi giudici e la fine del tribunale a Sulmona. Altre cinque telecamere nel centro storico. Chiudiamo le quattro edizioni andando su quella di Chieti, che apre con il crollo in aula. Chiusa la scuola a Chieti, al liceo artistico, stoppa le lezioni fino a lunedì e via i controlli. Protestano gli alunni. Entriamo anche nelle cronache della provincia teatina. A Chieti, presi ladri d'auto di lusso, base in città, colpito, tosto. Ad Ortona, abbandona il cane in strada e viene condannata. Ad Atessa, Onewell, scongiuriamo la chiusura. Nella foto il sindaco di Lanciano, Mario Puvillano, che è presidente della provincia di Chieti. Cambiamo quotidiano adesso. Andiamo sulle colonne del messaggero. Anche qui l'apertura è dedicata al Gran Sasso. Gran Sasso, test radioattivo. Gli ambientalisti lanciano l'allarme. Il laboratorio, per adesso, è soltanto un'ipotesi. Il materiale nucleare è nella fase 2 di un esperimento già avviato, ma assicurano. Non c'è nessun pericolo. Andiamo in alto, in pagina. Il pericolo. L'Orsa Marena attraversa l'autostrada. Allerta sulla A25. Poi, Morbillo non viene vaccinato. Ragazza invalida. La procura scagiona il medico. E per lo sport, Pescara nella gara di Parma. Tornano Mancuso e Palazzi. Il terzino Crescensi fa autocritica contro il Cittadella. Non siamo stati all'altezza di spalla. Esami cardiaci a distanza. Investimenti sulla start-up. Scendiamo a centro pagina. Andiamo ad Avezzano per vedere il presidente del Tribunale di Avezzano, che abbiamo visto anche sul centro. Il presidente del Tribunale che dice Siamo stati abbandonati. Denuncia di Forgillo contro i tagli agli uffici giudiziari. E poi, per la cronaca, omicidio di Jennifer via alla perizia sull'ex Jennifer Sterlecchini, di cui si è parlato anche qualche giorno fa prima di una conferenza stampa pre-gara di Zeman. La fotonotizia Delfino d'Oro a Vanzina. Premiato il regista ieri a Pescara con il Delfino d'Oro, produttore che particolarmente si legge legato alla città. A Chieti, liceo, protesta dopo il crollo. Cambiamo quotidiano, chiudiamo le prime pagine regionali andando a vedere la città, il quotidiano della provincia di Teramo. un altro allarme dal Gran Sasso. Esposto ambientalista sul rischio radioattivo. In arrivo il contenitore decontaminato. Al solito, comunicazione assente. In alto, entriamo proprio a Teramo. Brucchi strumentalizza il parere sulla Tercop. Per salvare i posti serve la volontà politica. A Silvi, spaccio di droga, chiuso il bar Iguana. La fotonotizia. La barca fantasma. Fiamme gialle distratta da un fallimento, recuperata addirittura in Albania. Di spalla, andiamo a Giulianova. A Costantini, numeri all'otto sulle nomine dell'ente Porto. Continuiamo a Martinsicuro, dunque ci spostiamo in vibrata. Illuminazione dopo i disagi la diffida. Per la cronaca, ubriaco danneggia le auto in sosta. A Teramo la polizia denuncia un vandalo di 31 anni. E adesso ci spostiamo sulle questioni nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, perché si torna a parlare della questione spagnola. Indipendenza, ma si tratta. La Catalogna dichiara la secessione, poi la sospende. E Madrid, dice, è assolutamente inammissibile. Le pressioni di Bruxelles fanno slittare il discorso al Parlamento. La piazza resta delusa. E di spalla abbiamo anche l'analisi, la sovranità fragile, il declino degli stati europei di Ernesto Galli della loggia. questioni più prettamente italiane, ricorso in tribunale, richiesta danni da 400 milioni agli ex vertici di Banca Etruria. La legge elettorale adesso, fiducia sulla legge elettorale, patto PD, Forza Italia, lega, ovviamente insorge il Movimento 5 Stelle, con Pisapia mai così, così mai alleati, il governo battuto sulla norma UE. Vediamo la Repubblica, che apre proprio con la questione riguardante la legge elettorale, rivolta sulla fiducia, Rosatellum scoppia il caos in aula dal Quirinale, via libera al governo, Gello di Napolitano, no di MDP, Bersani una vergogna, Pisa Pia, grave strappo istituzionale, il Movimento 5 Stelle va in piazza, poi in Spagna, Catalogna indipendente, ma trattiamo, come abbiamo visto, insomma è ancora abbastanza calda la situazione che riguarda i rapporti tra la Catalogna e la Spagna. Sulla stampa, anche qui, le parole di Puigdemont, indipendenza, ma trattiamo, la Catalogna dichiara la secessione, ma apre a Rajoy Madrid, no, è un ricatto, il Presidente della Catalogna avvia il processo, ma ne sospende le conseguenze, 72 deputati firmano la dichiarazione per la legge elettorale di spalla e scontro sulla fiducia sinistra e Movimento 5 Stelle insorgono. A centro pagina, la foto notizia, la California brucia, morti e dispersi, in Italia autunno, caldo da record, termometro a 25 gradi, essiccità da nord a sud. Anche qui c'è il ritorno su Banca Etruria, danni per 400 milioni, azione contro gli ex vertici. Cambiamo anche in questo caso quotidiano, andiamo sul messaggero, ma sull'edizione nazionale, la frenata, si legge, della Catalogna. Puigdemont firma la dichiarazione di indipendenza, ma la sospende per favorire il dialogo. Dura la risposta del governo di Madrid, ricatto inammissibile, non ci sarà mai la secessione. Per la politica, il codice etico grillino Di Maio, raggi condannata, dice, verrà sospesa. Luigi Di Maio, peraltro, designato come candidato premier del Movimento 5 Stelle. La legge elettorale, fiducia sulla legge elettorale, tra barricate e franchi tiratori. Domani voto finale segreto, Movimento 5 Stelle ed MDP in piazza, fischiato di Battista. E a proposito di politica, vediamo anche le questioni che riguardano le elezioni in Sicilia. Via Libera, prima delle elezioni in Sicilia, asse tra Renzi e il Quirinale, per il sì, Gentiloni, così o servirà un decreto. Il fatto quotidiano, che ovviamente non può che aprire con la legge elettorale, definendola un fascistellum. Legge elettorale, Renzi ordina la fiducia, Gentiloni obbedisce, Mattarella tace. PD e Premier tradiscono i giuramenti sul governo neutrale, strozzano emendamenti e dibattito in Parlamento. Orlando e perfino Napolitano, critici ma il colle cede, Di Maio, emergenza democratica. Molto duri anche Bersani e Compani. Per la Spagna, Picdemont frena Catalonia Libera, però dialoghiamo Madrid, che dice che è assolutamente inaccettabile. Il Presidente della Regione Autonoma avvia il processo di indipendenza, ma lo sospende. Il governo Rajoy chiude la porta. Il manifesto, abbastanza chiaro dal titolo, camicia di forza. La fase zen di Matteo Renzi, leggiamo, è già finita, è già finita, il leader del PD dimentica i precedenti disastri sulle riforme e strappa a Gentiloni con la copertura di Mattarella il voto di fiducia sulla nuova legge elettorale. Berlusconi e Salvini applaudono, il Movimento 5 Stelle va in piazza, come la sinistra che si ricompatta sul no. E invece in Catalogna l'indipendenza è sospesa, come si legge proprio nell'articolo. Il tempo. Battisti, rabbia italiana a Rio, associazioni, istituti, comitati in Brasile, tutti contro il terrorista. Lui, non mi avrete il figlio del macillaio ucciso, Dio lo punirà. Ovviamente si parla del ritorno in Italia di Cesare Battisti dell'estradizione dell'ex brigatista. In alto, non solo Monte Carlo, Fini e Tulliani nei guai, indagini chiuse sull'ex leader di AN, il reato, riciclaggio, verso il processo pure compagna, cognato e suocero. E per il re del gioco Corallo c'è una stangata in arrivo. Il giornale Nuovo Golpetto di Napolitano, si legge, il governo mette la fiducia, Re Giorgio ricatta sinistra e Mattarella, guerriglie in aula, grillini invece che vengono fischiati in piazza a centropagina, faccia a faccia, intervista esclusiva, il colloquio con l'assassino in Brasile, faccia a faccia con Battisti, non tornerò mai in Italia. libero, cambia completamente argomento, apre con le questioni legate all'immigrazione e alle eventuali conseguenze. Ecco gli amichetti dell'Islam, quanti intellettuali italiani filano coi musulmani, lungo elenco di convertiti, politici come Pisapia e Boldrini, Mogherini e Bonino, giornalisti come Lerner, Serra, ma anche Fini e Buttafuoco, tutti convinti che i fedeli di Allah siano buoni e vadano accolti a braccia aperte. Torna a parlare invece Umberto Bossi, storico leader della Lega, se non passa il referendum Lombardia e Veneto andranno in malora. Questa è l'intervista proprio ad Umberto Bossi che si trova all'interno. Legge elettorale sottoposta alla fiducia, oggi e domani alla Camera il primo passare. In basso i catalani rinviano l'indipendenza e poi una storia si sono down e mi trovo bene una ragazza con la sindrome racconta comunque la sua vita felice. L'avvenire la Catalogna è sospesa indipendenza non ora proclamate solo parole. Il fatto il presidente Puigdemont rivendica la secessione ma gli effetti sono congelati in Madrid da pronta all'impugnazione ma si tenta una mediazione. A centro pagina per la politica oggi primo voto sul Rosatellum ancora una fiducia sulla legge elettorale ma protestano Movimento 5 Stelle e Sinistra nuova cittadinanza nessuna sanatoria ius culture norma transitoria destinata a pochi casi specifici. Il sole 24 ore con cui chiudiamo la rassegna nazionale Ape volontario dal 2018 perso un anno per il via il governo valuta un correttivo in manovra per prorogare di 12 mesi la sperimentazione decreto fermo alla Corte dei Conti tempi incerti per l'ok ovviamente si torna a parlare dell'uscita volontaria dal lavoro tra i nati tra il 1951 e il 1953 di spalla il ruolo dell'ESM l'ultima trappola di Schäuble in Europa in Spagna Puigdemont Catalogna sarà indipendente ma spazio anche ai negoziati a centro pagina ILVA più vicina alla ripresa del dialogo governo e Arcelor Mittal pronti a rilanciare la trattativa boccia aprire subito un confronto in Giappone lo scandalo delle false certificazioni travolge Cobestil chiudiamo la rassegna stampa le prime pagine dei quotidiani generalisti per andare su quelli più specificatamente sportivi apriamo con la gazzetta dello sport con l'intervista derby dalla A alla Z di Zanetti l'intervista all'ex capitano dell'Inter a quattro giorni come vedete dal derby della Madonnina che si giocherà domenica sera al 20 e 45 andiamo invece su quello che ha interessato il mondo sportivo calcistico in questi giorni ovvero le qualificazioni ai mondiali da Italia Irlanda e Svezia le più scomode del nostro playoff Milano e Palermo le città favorite per la gara che giocheremo in casa Uva su Ventura ma in discussione in questo momento sarebbe assolutamente deleterio e l'analisi però di Arrigo Sacchi che dice però ora serve una squadra leggiamo anche il parere insomma di un uomo molto importante un ex allenatore importante come Arrigo Sacchi la nazionale di Ventura va agli spareggi da testa di serie come era sperabile o prevedibile il risultato è ok non così il gioco il CT è un uomo ottimista e fiducioso nelle proprie idee desidera dare agli azzurri un'immagine più positiva e bella del solito peraltro vediamo queste sono le squadre teste di serie che sono in prima fascia e tra cui c'è anche l'Italia che potrà affrontare una tra Svezia Nord Irlanda Grecia e Irlanda e come vedete c'è anche l'analisi di quelle che sono quella che è la forza di queste probabili avversarie ovviamente si attende con ansia il sorteggio martedì il sorteggio playoff a Zurigo le gare si giocheranno il 9 e l'11 novembre la gara di andata il 12 e 14 novembre quella di ritorno peraltro nella notte sono arrivate anche le qualificazioni dell'Uruguay dell'Argentina che ha vinto 3 a 1 in Ecuador anche della Colombia rimangono fuori rimane fuori per esempio il Cile che ha perso 3 a 0 contro il Brasile ultima giornata dei gironi europei però in Europa CR7 dritto in Russia col tifo di Madonna pass per la Francia perché il Portogallo batte la Svizzera e dunque diventa prima del girone e manda la Svizzera agli spareggi esattamente come l'Italia e invece il Portogallo va direttamente a Russia 2018 torniamo rimaniamo sul calcio ma torniamo sulle questioni del campionato di Serie A che torna questo fine settimana perché Montella contraattacca Berlusconi la replica dell'allenatore del Milan all'ex presidente che dice i suoi consigli non mi piacevano e ammette domenica mi basta anche un autogol saliamo risaliamo ma andiamo sull'altra parte della pagina top e flop scrigni armatoidi e pellegrini in volo Bonucci delude questo è il primo tagliando del mercato dopo poche giornate dopo sette giornate di campionato come vanno i nuovi acquisti Douglas Costa e Cialanoglu faticano nella Roma bene anche Alexander Kolarov Juve come riparte il Diesel Higuain ad ottobre accelera andiamo adesso sul Corriere dello Sport perché la giornata di campionato di Serie A si apre con Juventus Lazio e allora l'apertura è dedicata proprio ad Allegri e Simone Inzaghi che si vedono in foto fratelli d'Italia si legge verso la sfida tra Allegri e Inzaghi interpreti moderni della nostra scuola migliore il tecnico della Juventus sa coniugare benissimo attacco e concretezza l'allenatore della Lazio ha già vinto la Supercoppa proprio contro la Juventus in alto invece l'Inter lancia la volata derby negli ultimi 15 minuti è riuscito a segnare 8 gol Montella da brividi Milan ossessione Champions il caso adesso che riguarda un giocatore che è potenzialmente convocabile dalla nostra nazionale perché Giorginio chiama il Brasile mi vuole e Ventura non si sa se Ventura vorrà fare veramente affidamento sul centrocampista del Napoli i mondiali Ronald e Griezmann volano in Russia e l'Olanda è fuori in basso per il basket da Tome pronto a vincere ancora la nostra stella ci riprova col Fenerbahce Milano va a Mosca chiudiamo con Tutto Sport l'inchiesta le pause dividono il calcio nazionali divieto di sosta gli impegni delle rappresentative interrompono il patos dei campionati e mettono sempre più in anzi i club quante brutte sorprese per Allegri che ora teme per Mandzukic quante preoccupazioni per De Laurentiis ma la passione dei tifosi e gli ascolti tv puntini puntini e vedete anche ci sono i pro e i contro delle eventuali soste di campionato che ce ne sarà un'altra a novembre proprio per gli spareggi dell'Italia in alto Juventus Bianconeri su Netflix è uno show mondiale Torino Baselli pronto anche a fare il capitano del Toro in basso Russia 2018 Grecia Svezia e le due Irlande il nostro mondiale passa da qui e per il basket Torino torna in Europa a Zagabria col Cedevita Poeta siamo fortissimi con questa notizia chiudiamo la prima parte in cui abbiamo visto le prime pagine ci fermiamo per la pubblicità prima le previsioni del meteo poi torniamo e entreremo dentro i quotidiani di casa nostra tra poco seconda parte di mattino 6 siamo pronti per entrare all'interno dei nostri quotidiani partendo dagli argomenti in primo piano sul quotidiano e il centro che parla delle asla abruzzesi ecco le pagelle regione i quattro manager che vanno verso la conferma Flacco e Fagnano c'è già l'ok per Mancini e Tordera dovrebbe arrivare per Flacco Asle di Chieti e Fagnano dunque ci sarebbe già l'ok per Pescara e Lacroix insomma c'è da vedere ma c'è anche sembra tutto andare verso questa direzione peraltro ci sono anche come vedete le pagelle le pagelle date evidentemente ai manager rispetto a tanti parametri che riguardano proprio la sanità e una lunga analisi che riguarda proprio i manager anche sull'altro fronte in questo caso sono pagellati Flacco e Fagnano poi evidentemente arriverà anche per gli altri due in basso il mercato immobiliare in Abruzzo il prezzo delle case rallenta la discesa sale solamente a Chieti sull'altra pagina Missione Bruxelles l'Abruzzo gioca la partita delle grandi infrastrutture al Comitato delle Regioni D'Alfonso rilancia il progetto delle reti TEN-T abbiamo 14 mesi per trasformare il Sì della programmazione UE questa è la Missione Bruxelles andiamo sull'altra pagina vendemmia luci e ombre viene definita così questa per l'Abruzzo vino la produzione cala di un terzo le stime di col diretti Abruzzo sulla campagna 2017 tra le più scarse del dopoguerra ma la qualità però resta alta sull'export agroalimentare il 36% verso mercati che sono fuori dall'Unione Europea e poi il consorzio Colline Teramane Cerullirelli che dice le viti vecchie hanno fatto la differenza questo è il parere cambiamo pagina perché si torna a discutere di Tercas Di Matteo deve risarcire 192 milioni Teramo condanna record per l'ex direttore generale di Tercas il Tribunale dell'Aquila accoglie il ricorso della Banca Popolare di Bari leggiamo anche un po' più nello specifico dall'operazione San Marino Fidi per Di Stefano Samori e altri decine di casi contestati al manager di Avezzano ma la posizione degli altri numerosi ex amministratori e sindaci è stata separata per loro invece ancora nessun verdetto andiamo a Pescara parola alla Cassazione omicidio Pavone il giorno della sentenza il procuratore generale della Corte d'Appello contesta anche la premeditazione Gagliardi cercò su internet le notizie dell'arma voleva uccidere il marito della sua amante e poi per il caso di Jennifer Sterlecchini via la perizia sullo stato di salute mentale di Davide Troilo che vedete nella foto l'uomo di 32 anni accusato dell'omicidio volontario pluriaggravato dalle coltellate inferte della sua ex fidanzata Jennifer Sterlecchini che all'epoca aveva 26 anni torniamo sulla questione Pavone perché nella pagina accanto si legge il PM aveva chiesto 12 anni investimento dopo il diverbio assolto dal tentato omicidio cambiamo pagina Ciatè e Delfino d'oro rimaniamo a Pescara Deritis Sereni e Pedicini tutti i riconoscimenti ai benefattori di Pescara premi anche al gesuita padre Piva alla poetessa di Gregorio alla memoria la giornalista e storica dell'arte Silvia Dell'Orso andiamo in alto Patrick Deritis musicista suonato e diretto con le orchestre più importanti del mondo un talento che a Pescara e che qui continua ad alimentarsi medaglia d'oro a Paola Sereni una carriera salutata da una medaglia d'oro del ministro della pubblica istruzione ha insegnato a diverse generazioni della città e il doppiatore Roberto Pedicini la voce che dona emozioni ha dato voce ai più grandi talenti del cinema mondiale conserva radice e passione a Pescara dove tutto è cominciato e poi in basso anche la poetessa Nicoletta di Gregorio Silvia Dell'Orso Nicoletta di Gregorio Silvia Dell'Orso alla memoria grande amore per l'arte una vita interrotta prematuramente ma vissuta a Pescara e poi padre Giuseppe Piva il missionario per dieci anni al Cristo Re per tanti anni è stato un riferimento della comunità pescarese attraverso la sua presenza nella parrocchia dei Gesuiti ma ieri c'era anche Vanzina che è commosso grazie Pescara hai salvato mia moglie il regista premiato ricorda la grande paura dell'estate 2015 a Roma non avrei trovato medici ospedalieri così bravi e allora come vedete in basso altre foto ci andiamo a vedere proprio il servizio dedicato a Ciatè e Delfini d'Oro la cerimonia di ieri mattina a Pescara servizio giorno di San Cetteo festa del Santo Patrono al Sindaco Alessandrini oggi c'è la consegna dei Ciatè d'Oro e dei Delfini d'Oro avete puntato sulla cultura sulla musica su chi si è distinto in campo nazionale in tante opere meritorie e che in un modo o nell'altro è stato legato anche alla città di Pescara ogni anno si rinnova l'anniversario di San Cetteo e si rinnova anche questo momento di partecipazione collettiva alla vita pubblica alla vita delle istituzioni nella vita del comune lo facciamo per il tramite di alcune persone che hanno contribuito a portare in giro per l'Italia e non solo il nome di Pescara premiamo diciamo personalità diverse ma tutte accomunate appunto dall'amore nei confronti di questa città e le premiamo per il fatto che appunto hanno diffuso con le loro storie con il loro lavoro con la loro passione anche dei valori che sono i valori nostri e siamo qui appunto a Serrati quasi a corte mi verrebbe da dire parafrasando l'inno nazionale in un momento che è di festa ma anche di riflessione la stella di questa giornata a Pescara è sicuramente Enrico Vanzina che è oggi qui a Pescara non per la prima volta e tra l'altro legato a Pescara e anche ad Enio Flaiano sì sono molto molto fiero e orgoglioso di ricevere questo delfino d'oro in una città che ho scoperto tardi nella mia vita che è entrata nel mio cuore per tante ragioni non ultima la sua bellezza la sua simpatia una città allegra che mi ricorda dico sempre che mi ricorda un po' Rio de Janeiro è una città che è percepita male secondo me in Italia non la conoscono è una città meravigliosa naturalmente la grande amicizia che legava mio padre a Flaiano ha fatto sì che questa scoperta mia personale per caso negli ultimi anni di Pescara mi ha fatto tornare alla memoria questa amicizia antica ho avuto il piacere di conoscerlo bene per cui ho vinto anche il premio Flaiano e tra le cose che mi hanno dato nella vita forse indenniamente il premio Flaiano è uno di quelli che io considero più importanti perché ripeto l'amicizia che c'era tra le nostre famiglie era grande per cui per me oggi essere qua è un grande onore e allora questo Vanzina premiato a Pescara lo ritroviamo anche sul quotidiano il messaggero vediamo Vanzina io pescarese come Flaiano l'affetto dello sceneggiatore per la città il grazie al medico che salvò sua moglie è un forte no a chi vuole un'Italia divisa sala consigliare gremita ieri perciatè e delfino d'oro applausi a pedicini gatto silvestro e al musicista De Ritis e poi la stonatura che tristezza quei banchi vuoti della giunta scendiamo in basso anche gli altri personaggi come abbiamo letto il prete le insegnanti il coc l'impegno per la solidarietà commuovono le storie di Pino Piva e Silvia Dell'Orso premio agli operatori dell'emergenza e alle docenti in pensione attenzione rimaniamo sul quotidiano il messaggero tra orgoglio e abbandono la vita agrodolce dei colli buche strade killer e verde non curato nel quartiere che si stende oltre la stazione residenti e commercianti divisi tra rabbia e senso identitario in fondo dicono qui si sta bene e poi il caso l'acqua torna potabile nelle scuole revocati di vieti emergenza risolta l'inquinamento si legge era dovuto all'utilizzo di uno strumento non sterilizzato nei prelievi dunque il problema era lo strumento non l'acqua evidentemente le medie imprese in basso annusano la borsa grazie a Elite il programma di Confindustria per la ricerca di finanza alternativa illustrato ieri alle aziende abruzzesi e torniamo sul centro per vedere il caso in tv su striscia la notizia passo indietro dei politici più parcheggi per i disabili ieri in tv su striscia la notizia il caso dei posti auto contesi intorno al comune l'assessore civitarese aumenteremo gli spazi sia in piazza sia nelle vie intorno in basso Alzheimer ecco il primo giardino sensoriale la struttura nasce nel parco di Villa Deriseis grazie a Univetta Aurora Valori e Sapori e Comune andiamo avanti spostandoci a Spoltore di Lorito il cementificio un danno per il territorio il sindaco di Spoltore l'area deve essere modificata giusto realizzare un parco oggi l'apertura delle buste presentate sei offerte per raggiudicarsi l'opificio di spalla lotta ai tumori e i ragazzi illustrano gli stili sani di vita nella pagina accanto i pattinatori pescaresi a medaglia la jolly fancetta di successo ai campionati italiani di Misano con 16 atleti tra i 5 e i 20 anni andiamo nell'area metropolitana di Pescara ci spostiamo a Francavilla più entrate per il comune con multe e parcometri Francavilla il sistema street control e l'incremento delle riscossioni per le soste estive a pagamento hanno portato quest'anno gli incassi a quasi 242 mila euro questa è la tabella riassuntiva della gestione di entrate e parcheggi a Francavilla e questi sono gli introiti complessivi che come abbiamo detto si aggirano intorno ai 242 mila euro a Montesilvano scontro sullo Stella Maris ho parlato con il sindaco pronti alle barricate Orsini spiega il disagio dell'amministrazione Maragno sull'apertura del cantiere nell'ex colonia volevamo l'accademia regione e provincia ci hanno snobbati e poi per i lavori pubblici sempre a Montesilvano maxi appalto da 245 mila euro per riparare le strade torniamo adesso sul messaggero per vedere rimanendo sempre a Pescara ma cronaca come detto l'omicidio di Jennifer Jennifer il killer incontra gli psichiatri primo contatto in carcere tra i consulenti incaricati dalle parti è Davide Troilo l'uomo accusato di aver ucciso l'ex fidanzato un'ora e mezza di colloquio con il perito di Gian Antonio e gli altri specialisti 70 giorni per poter decidere sulla eventuale infermità mentale proprio di Davide Troilo a centro pagina il sindaco di Montesilvano Maragno dichiara guerra alle buche ok al progetto interventi finanziati dalle multe del semaforo T-Red l'assessore Cozzi che dice così migliorerà la viabilità locale per lo Stella Maris la cerimonia non spegne le polemiche e poi a Penne auto o isola referendum su piazza Luca da Penne cambiamo adesso provincia andiamo a L'Aquila Masterplan ex San Salvatore bocciatura dalla Sise Civica al centro-destra i tempi per un accordo non dipendono dal comune che sta mediando l'amministrazione dovrà comunque percorrere le tappe previste dal documento e poi c'è l'appello del primo cittadino dell'Aquila Luigi Biondi che dice chi può torni al più presto in centro storico vedremo se sarà raccolto questo appello del sindaco dell'Aquila in basso doppia attività dipendente Asla nei guai l'indagine la procura contabile evidenzia 335 mila euro di danno erariale adesso la parola aspetta ai giudici e accanto botte in fabbrica dal giudice una condanna a sette mesi rimaniamo sempre all'Aquila le associazioni in coro la gloriosa biblioteca deve tornare in centro accorato appello per salvare l'enorme patrimonio librario presentato un progetto di potenziamento alla tommasiana di spalla gran sasso bene accelerare ma adesso tutti al lavoro per il turismo e poi in basso un murale per la libertà di stampa Luca Simenes ha dedicato l'opera a Candundar a testimonianza dell'intenso incontro avuto due anni fa con il giornalista turco attualmente in esilio in Germania e poi una bella storia di fatto due aquilani amici nemici nella serie A di calcio e sono Marco Ianni come vedete che all'Aquila ha giocato adesso ha smesso e Lorenzo Del Pinto che è un scoppitano aquilano doc e dunque adesso si affrontano in serie A Del Pinto con la maglia del Benevento e Ianni con quella del Napoli anche se non scende in campo andiamo nella Marsica ad Avezzano per le parole del presidente del tribunale di Avezzano Forgillo abbandonati dalle istituzioni clamorosa conferenza stampa del presidente del tribunale ieri a Palazzo di Giustizia il presidio verso la chiusura il sindaco Gabriele De Angeli si invita tutti i primi cittadini a firmare una delibera per l'autofinanziamento della struttura e poi in basso sempre ad Avezzano rapine a raffica presi però gli ultimi due andiamo a Chieti crollo all'artistico e protesta il liceo chiuso fino a lunedì scuola la manifestazione dei ragazzi noi siamo il futuro metteteci al sicuro da ieri pomeriggio al Via Le Verifiche sabato si deciderà se riaprire l'istituto gli studenti leggiamo non entrano in classe fuori i documenti e vitale denuncia gli industriali rischiano di perdere 2,2 milioni la mostra presenze al Barbella 30 opere della Dintino in basso per la politica PD di Giovanni Ceripenza si può tornare a due circoli e la paura su Corso Marruccino va in arresto cardiaco salvato dal 118 un anziano di 86 anni è caduto lungo Corso Marruccino per un malore è stato lanciato dall'allarme per fortuna è stato salvato dal pronto intervento in basso Ateneo student card al posto del vecchio libretto dal senato accademico intervento sulla vicenda della sede telematica per la sanità per la sanità Lanciano la ASL tuteli dipendenti delle coppe in 150 in ospedale con stipendi minimi la USBA Paolucci tavolo e concorso sempre per la sanità ragazza invalida perché non vaccinata contro il morbillo assolta la dottoressa leggiamo la giovane di Lanciano fu colpita da encefalite morbillosa ed è finita sulla sedia a rotelle davvero una storia incredibile questa ad Ortona abbandona un cucciolo è stata condannata una donna che nel 2014 legò un cucciolo ad un palo incontrata a fonte grande in basso a vasto deficit in comune in monito della corte a Teramo terremoto e nevicate la provincia vara un piano sicurezza dai ponti radio all'allestimento di una sala operativa il presidente della provincia di Sabatino mai più emergenze come lo scorso inverno per i parcheggi cade la richiesta della Tercop il comune pensa alla gestione interna proprio dei parcheggi le strisce blu con i parcometri il municipio vuole incassare mezzo milione all'anno in basso esercisce il barista dopo la rapina 8 mila euro per aver rubato lattine di birra e averle scagliate contro il gestore del locale sempre in provincia ma ci spostiamo a Giulianova un sogno il pattinaggio su ghiaccio il sindaco di Giulianova Mastromaura ha illustrato ai commercianti il progetto dei lavori di via Nazario Sauro fermi a dicembre per riprendere a gennaio intanto si punta ad un consorzio di negozianti che già pensa ai mercatini di Natale per la regolarità amministrativa ok dalla Corte dei Conti questo sempre per quanto riguarda il comune di Giulianova in basso tari e tasse non pagate scatta la caccia all'evasore siamo a Tortoreto e poi a Roseto invece futuro della Rolli il sindaco incontra la RSU cambiamo adesso quotidiano torniamo sul centro a Chieti crollo in aula scuola chiusa via i controlli nell'istituto protesta al liceo artistico lezioni sospese fino a lunedì gli studenti in corteo vogliamo un edificio sicuro a D'Ortona abbandona il cane condannato a D'Ortona a Teramo prove tecniche per l'arrivo del materiale radioattivo se il test sarà superato i laboratori accoglieranno combustibile da un reattore russo esperimenti nucleari dunque sul Gran Sasso in basso però ci sono le parole di rassicurazione seguiremo tutti i controlli di sicurezza tutti i protocolli di sicurezza il direttore dei laboratori di fisica Ragazzi Stefano Ragazzi esclude pericoli di contaminazione dell'ambiente prima di andare allo sport cambiamo quotidiano e torniamo sulla città per vedere qual è l'apertura del quotidiano della provincia di Teramo ovviamente dedicato al crack milionario della Tercas l'ex direttore di Matteo deve risarcire Tercas dovrà pagare 193 milioni alla Popolare di Bari per le responsabilità del commissariamento del 2012 e poi l'allarme dei laboratori che torna anche sul quotidiano ovviamente la città prove generali per l'esperimento radiattivo consegnati container decontaminati che nel 2018 saranno utilizzati per trasportare il materiale irraggiato per il progetto SOX e questa è proprio la foto che descrive questo container a Teramo il piano neve e speriamo che non nevichi mai pagate le ditte impegnate durante la neve di gennaio il rischio è che incrocino le braccia quando e qualora dovesse esserci una nuova nevicata che dalle nostre parti soprattutto in altura insomma è abbastanza all'ordine del giorno in inverno cambiamo pagina scuola febbo addio a mezzo milione di fondi i lavori mai iniziati andavano conclusi entro il 2013 e allora la regione ha riassegnato il finanziamento e ovviamente parliamo della scuola Carlo Febbo di San Nicolò a Tordino e poi l'idea della fiera dell'agricoltura che potrebbe svolgersi al parco fluviale la proposta dell'assessore Canzio per il trentennale di lasciare lo stadio e riportare la manifestazione in città e per l'università due giorni dedicati al benessere nell'Ateneo di Teramo sabato e domenica porte aperte al progetto Star Bene dedicato a salute terra alimentazione e relazioni andiamo in provincia Anas Renzo di Sabatino alza il tiro e chiede anche la vibrata dopo la chiusura riconvocato per lunedì prossimo il tavolo per il rifinanziamento per l'affidamento delle strade provinciali Tassa di soggiorno gli alberghi non sono Bancomat dei Comuni associazioni turistiche contro il sindaco di Roseto Sabatino di Girolamo dopo la convocazione del tavolo con gli altri sindaci ad Alba Adriatica a stazione i primi interventi funzionano sistemate le panchine antibivacco la zona pattugliata costantemente c'è ancora tanto da fare ma tra i cittadini c'è la percezione che qualcosa sia finalmente cambiato a Giulianova via Sauro i lavori finiranno ad anno nuovo il sindaco incontra i commercianti annuncia lo stop per le festività natalizie e per la pesca finalmente torna il pesce al mercato ittico-giuliese si è concluso lunedì il fermo biologico disposto per le imbarcazioni abruzzesi a Roseto Summit in comune con la SU Rolli di Girolamo incontrerà i sindacati per parlare del futuro dell'azienda RSU hanno chiesto l'incontro dopo le dichiarazioni del sindaco in consiglio sul contenzioso in atto adesso apriamo la pagina dello sport e cominciamo dal pescar e dalle parole di Simone Andrea Gans che dice pescara ti sceglierei altre mille volte Gans sento la fiducia di Zeva nel club siamo forti e sarebbe un fallimento non centrare i playoff la A è presto per parlarne e poi insomma tutti i dati l'identikit di Simone Andrea Gans genovese del 1993 la punta pagata quasi due milioni di euro non ha mai giocato titolare ma dice nessun pentimento sono sareno presto arriverà il mio momento insomma viene definito un bomber ai margini in basso per la serie B andiamo in Casa Parma che sarà il prossimo avversario del Pescara e sulla cui panchina c'è Roberto D'Aversa contro il Delfino arriva a disposizione Ceravolo e poi è morto il marito della presidente delle donne biancazzure del club donne biancazzure nella Grossi donne biancazzure in lutto alle 15 i funerali di Achille Grossi per l'appunto nell'altra pagina stop per Bovo che rischia il forfè per Parma l'ex Torino ha un problema al ginocchio Fiorillo invece dice mai detto di voler andare via in basso oggi Coppa Italia in serie D Francavilla decimato con la Vastese Coppa Italia serie D giallorossi ospitano gli Aragonesi la vincente giocherà contro il Monticelli per la serie C Teramo bene così ma gli arbitraggi ci hanno penalizzato il padrone Campitelli promuove il diavolo Asta merita 8 io sto facendo il massimo e con i tifosi il rapporto è migliorato centro pagina pallavolo serie A2 stasera contro Mondovì carattere ai punti di bench la Sieco cerca il decollo cambiamo quotidiano adesso andiamo a vedere lo sport sul messaggero crescenzi mai più un pescara così brutto e adesso rialziamoci l'autocritica del difensore troppi alti e bassi i troppi gol al passivo la fase difensiva bisogna però dice farla insieme e per la gara di sabato contro il Parma Zeman ritrova Mancuso e anche Palazzi a centro campo in basso Delfino calcio a 5 la corsa in UEFA Futsal Cup riparte dalla Bielorussia oggi a Minsk gara di esordio contro i Kazachi del Kairat Almati Colini dice non sarà un girone semplice l'altra pagina le parole del presidente del Teramo Campitelli questo Teramo mi ha ridato l'entusiasmo poi Francavilla Vastese in ballo la qualificazione oggi al Valleanzuca chi si qualifica sfiderà il Monticelli e poi per la palla a mano esordio amaro Lions arriva il Carpile i ragazzi di Labbrecciosa battuti all'esordio ora c'è il Salerno la formazione di fonti attesa da una gara interna insidiosa Coppa anche per l'eccellenza Giuliano Vecchiet in Coppa contro l'Angolana e il Cupello chiudiamo adesso con lo sport sul quotidiano la città ovviamente spazio al Teramo e le parole del presidente Campitelli grazie Teramo mi ha ridato entusiasmo conferenza sorpresa se sarò ancora qui l'anno prossimo tornerò ad investire in basso basket Teramo sta fiere abbiamo battuto Recanati grazie alla forza del collettivo l'MVP della gara del Palas Capriano punta dritta al prossimo impegno concentrati al massimo per vincere a Senigallia con questa notizia noi concludiamo la rassegna stampa di Mattino 6 che torna ovviamente domani mattina puntuale alle ore 8 e alle ore 14 invece la prima edizione del nostro telegiornale con tutte le notizie che riguardano la nostra regione è tutto buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.